Partita che abbiamo giocato un pochino sotto ritmo nei primi due quarti, sbagliando anche molti tiri aperti, probabilmente anche frutto del sotto ritmo in cui eravamo. Poi nell'intervallo abbiamo rimesso a posto un po' di cose, i ragazzi sono rientrati con un atteggiamento diverso, soprattutto difensivo, e gradualmente abbiamo aumentato palle recuperate, rimbalzi, abbiamo fatto canestro in situazioni che avevamo costruito anche nel primo quarto, ma tutta volta con grande intensità, con grande partecipazione al ritmo della partita. Partita difficilissima perché giocare contro di loro, che non hanno la pressione del risultato nel loro campo e anche con tanta gente era una partita difficilissima da superare, siamo molto soddisfatti. Grazie